buongiorno a tutti allora vi parlo oggi di quello che sta accadendo nell'emergenza urgenza bolognese scusate rimetto a posto anche il microfono e di quella che è la visione che come snami stiamo portando avanti ora quello che sta accadendo è abbastanza singolare nel senso che ci sono delle applicazioni un po così discutibili su quello che è la delibera di riordino dell'emergenza nel senso che da un lato vedete c'è una grande confusione secondo me anche nel non solo nel legislatore ma anche nelle varie figure tecniche intanto cerchiamo per chi segue questo canale colleghi e non perché ovviamente ci sono tantissime persone che seguono questo canale in alcuni momenti ho avuto anche 70.000 interazioni quindi è importante che tutti abbiano diciamo un base level di alcuni concetti intanto che cos'è urgenza che cos'è gravità e che cos'è l'emergenza perché qui si fa un gran parlare di riforma dell'emergenza urgenza ma qui in realtà ci sono un po di buchi anche concettuali su questo allora che cos'è l'urgenza e che cos'è la gravità lo spiego solitamente ai corsi di primo soccorso quelli sui luoghi di lavoro ebbene la gravità è fondamentalmente la capacità di una condizione medica o traumatica che il paziente sta vivendo di alterare il funzionamento dell'organismo alterare le funzioni vitali alterare quella che è la fisiologia della persona fino a causare il decesso ci sono tantissime situazioni gravi che però non sono urgenti prendiamo l'esempio delle neoplasie ci sono delle neoplasie che sono sicuramente delle situazioni gravissime ma non è che da lì in 5 minuti in 10 minuti in una giornata causano il decesso del paziente hanno tutto il tempo di essere studiate stadiate e trattate e chirurgicamente o meno poi è ovvio che ci possono essere delle contingenze in cui quella situazione sviluppa anche una certa urgenza e qui veniamo al secondo concetto quindi qual è l'urgenza il tempo è legata al tempo in quanto tempo io devo trattare una condizione possono esserci delle situazioni che sono urgenti ma che non sono assolutamente gravi faccio l'esempio di una colica renale che nella gran parte dei casi è una situazione di urgenza perché il paziente sta malissimo ma non necessariamente il paziente da lì a mezza giornata muore fa la sua colica la sua colica viene trattata e fortunatamente non c'è la necessità di mettere a rischio diciamo non la situazione non ha messo a rischio la vita della persona però è una situazione di estrema urgenza poi ci sono condizioni invece variegatamente come dire mescolate in cui gravità e urgenza coesistono e talvolta alcune situazioni sono talmente gravi quindi mettono talmente a repentaglio la fisiologia umana e le funzioni vitali da comportare il decesso nell'arco di poco tempo nell'arco di pochi minuti o poche ore e queste sono le situazioni di tempo dipendenza di emergenza le definiremo per cui l'emergenza è una cosa ben precisa poi c'è l'urgenza e poi ci sono le famose urgenze differibili no bene qui la riforma dell'emergenza urgenza in realtà credo che non abbia ben chiari tutti questi elementi nella loro complessità perché si focalizza sostanzialmente su parla spesso di codici colori di 70 80 per cento di bianchi di verdi cioè come se il verde come se nella marea dei verdi così come nella marea dei gialli così come nella marea dei bianchi si potesse tranquillamente mescolare qualche cosa che ha diversi livelli di complessità o di gravità e attenzione molto spesso nella fase di studio del paziente ci sono situazioni che vanno escluse quindi il paziente anche verde all'inizio poi può evolvere no e quindi ci abbiamo queste famose frasi anche ad effetto che il paziente cambia colore va rivalutato va fatto eccetera bene ora noi se dobbiamo fare una riforma dell'emergenza urgenza dobbiamo tenere in considerazione che tutto deve andare pari ogni ogni filone diciamo ogni situazione deve trovare per quanto possibile una risposta appropriata in termini di tempo e in termini di complessità della diagnostica e di tutta la strumentazione che serve a gestire quel caso bene quindi in questo momento che cosa qual è la critica che da medico d'emergenza faccio che si sta focalizzando moltissimo l'attenzione su una questione di bianchi e verdi definiti inappropriati e si stanno spendendo soldi risorse strutture per e personali ovviamente sulla parte di questi benedetti cao che ha messo e non concesso poi che vadano nella numerosità in cui si è previsto debbano essere aperti eccetera eccetera devono essere poi in grado di sopperire a tutti questi elementi no perché dei verdi per come la vedo io non non tantissimi verdi saranno poi gestibili all'interno del cao ce ne sarà una parte anche magari consistente ma assolutamente non una percentuale completa quindi queste frasi che la regione va dicendo cioè che tutti i bianchi tutti livello obiettivo nessun bianco nessun verde pronto soccorso secondo me la si può dire solo se lì al pronto soccorso non ci sia lavorato per sufficiente tempo perché questa è la cruda realtà ed è l'opinione che sia io che la praticamente la totalità dei colleghi poi dell'emergenza abbiamo se no la continuità assistenziale oggi che agli ambulatori non sarebbe costretta a divertire cioè deviare diciamo molti pazienti visti lì all'interno delle strutture ospedali di pronto soccorso certo ne può filtrare una parte ma se non hai poi la struttura diagnostica e di trattamento del pronto soccorso questi pazienti in continuità assistenziale o in ambulatori anche abbastanza avanzati come a bologna erano quello dell'ospedale bellaria e quello di san lazzaro non li riesci a gestire perché poi c'è tutto il tema della formazione delle competenze eccetera ma va bene su questo staremo a vedere la cosa invece intollerabile è l'altro filone di quello che sta accadendo cioè il tentativo contestuale cioè mentre da un lato apriamo i cao per i raffreddori dall'altro lato per le robe serie le emergenze tempo dipendenti invece andiamo a tirare ancora più corta la coperta stirarla ancora di più e quindi la il tema della chiusura delle automediche che sapete l'azienda usl di bologna nella prima versione aveva una roba catastrofica cioè chiuse automediche da tutte le parti adesso invece scopriamo dalla presentazione dell'altro giorno che hanno intenzione di chiudere l'automedica di una delle due automediche operanti sul comune di bologna di notte cosa anche questa assolutamente intollerabile che noi riteniamo pericolosa perché ovviamente parte da presupposti che non sono minimamente condivisibili che cosa si sta facendo è l'azienda giusto ieri sono state pubblicate nell'intranet alcune procedure alcuni protocolli in cui evidentemente l'azienda usl ha questo filone dice io tolgo il medico di notte dalla seconda automedica e poi cerco di telegestire dalla centrale operativa per telefono una serie di situazioni e dando ovviamente dei protocolli automatici diciamo così al personale infermieristico ovviamente questo non è condivisibile per due motivi uno perché l'esercizio della professione medica è ancora legato a laurea abilitazione all'esercizio professionale iscrizione all'ordine dei medici chirurghi o donto iatri dopodiché è evidente che in un servizio di emergenza che ha un numero di unità finite è chiaro che se c'è una situazione contingente in cui non ci sono mezzi di soccorso liberi perché sono tutti impegnati perché c'è una situazione straordinaria è evidente che il personale infermieristico che è preparato a gestire l'emergenza e che lavora spesso con le equip avanzate medico infermieristiche deve poter nell'interesse primario del paziente mettere in atto una serie di manovre ma questo non significa che questo debba diventare l'ordinaria gestione quindi tolgo automediche per dare procedure automatiche anche perché molte di queste procedure automatiche che dovrebbero a nostro giudizio intervenire ma anche secondo l'articolo 10 del dpr che prevedeva alcune manovre di supporto delle funzioni vitali queste procedure dovrebbero intervenire o in via anticipatoria integrativa dell'intervento dell'automedica o dell'altro mezzo di soccorso avanzato può essere l'elicottero può essere un'altra forma dipende da dove si verifica questa cosa queste procedure dovrebbero intervenire a tutela del paziente in via anticipatoria ed integrativa dell'intervento medico in locco non in via sostitutiva per tentare ovviamente di demedicalizzare e di rendere la gestione del paziente automatizzata perché non c'è nessun automatismo nella gestione dei pazienti alcune delle procedure dei protocolli che sono stati previsti tra le altre cose in passato dalla giunta regionale che c'è dalla delibera regionale non sono assolutamente così automatici perché non esiste una linea guida che ti dice di fare tot milligrammi di tot farmaco in tutti i pazienti sono la maggior parte farmaci e prescrizione medica perché perché ci sono sì delle diciamo linee scientifiche degli studi delle cose ma è il giudizio del medico sul singolo caso concreto sul singolo paziente a decidere se come e quando vengono somministrati determinati farmaci perché faccio alcuni esempi se il paziente ha un'intossicazione da benzodiazepine si dice bisogna fare 0,5 di flumazine faccio questo esempio ma attenzione non è che i pazienti hanno spesso l'intossicazione da una singola benzodiazepina poi c'è anche il paziente che prende le benzodiazepine magari ne ha prese troppe ma è un epilettico quindi quel farmaco lì può avere degli effetti anche avversi estremamente seri proprio di recente mi è capitata una gestione di un paziente con un'assunzione dove la benzodiazepina era ovviamente la predominante ma c'erano anche altre sostanze in cui il centro antiveleni dà la totale controindicazione alla somministrazione di quell'antidoto lì perché perché bisogna usare un'altra strategia perché quell'antidoto lì mischiato con le altre molecole prese dal paziente ovviamente dà delle problematiche di altro tipo e allora non c'è nessun automatismo in medicina questo bisogna che lo spieghiamo chiaramente anche ai politici che avvallano determinate visioni poi questa è una visione è una visione di sistema cioè che sistema vogliamo vogliamo un sistema automatizzato vogliamo un sistema dove appunto faccio la battuta sui barcode mettiamo l'etichetta al paziente come alla valigia sul rullo e vengono tutte caricate uguali in medicina questo non funziona ogni paziente è un caso ogni paziente ha delle patologie proprie ha una sua storia clinica ha dei suoi farmaci in terapia cronica non c'è nessun automatismo nemmeno nelle manovre rianimatorie classiche di una cls perché poi ogni paziente ha un suo background può avere sue cause reversibili diversi deve decidere altre modalità per gestire quella cosa per cui le procedure non possono sostituire poi l'intervento delle equip avanzate anche perché è una cosa patologica pensare che un operatore da solo sia messo lì magari con qualcuno che gli fa da suggeritore telefonico no come suggeritore nella buca gli dice fai a fai b da solo io questa cosa non l'ho vista neanche all'estero all'estero addirittura c'erano su ogni intervento anche per qualunque stupidata 7 7 operatori firefighter paramedics in alcuni casi un pochettino magari 5 ma addirittura lo standard era 7 quindi noi non possiamo dare credito a queste visioni che sono visioni che fanno un downgrade del sistema non fanno nessun upgrade non fanno nessun upgrade e addirittura continuano e auto mantengono una visione di sistema che automatizza la gestione dei pazienti quindi si concentra completamente su un processo su un'automazione e non tiene nemmeno in considerazione gli effetti collaterali che tutto questo avrà in termini di formazione dei nuovi medici perché piaccia o non piaccia questo paese anche grazie al precedente ministro hanno aperto mostruosamente i posti a medicina mentre i posti delle professioni sanitarie tracollano nelle iscrizioni per tutti i motivi di indecenza delle condizioni di lavoro di indecenza ovviamente degli stipendi rispetto agli altri paesi europei eccetera non c'è un giudizio sulla qualità dei professionisti ma c'è un problema serio nel bilanciamento delle professioni ora se tu chiudi i mezzi di soccorso dove li andiamo a formare nuovi medici che indipendentemente dal fatto che rimangano nel sistema emergenza o che vadano poi a operare in altri settori quando nel loro percorso formativo passano attraverso l'emergenza urgenza portano a casa tantissime nozioni tantissime informazioni che li renderanno professionisti migliori qualunque lavoro vadano a fare e tentare invece di andare a contrarre ridurre quello che è già un sistema che comunque ottiene nel caso della città di bologna alcuni dei migliori numeri europei sull'arresto cardiaco per esempio da anni e anni allora andiamo a copiare modelli che quei numeri non li hanno nel contesto europeo per quale motivo dobbiamo andare a modificare qualche cosa dove sono i dati di esito che sono stati valutati su questo modello qui al di là delle questioni tecniche che poi c'è ovviamente sulla città di bologna l'aeroporto eccetera eccetera noi questo lo dobbiamo dire senza timore alcuno così come dobbiamo dire senza timore alcuno che la pubblicità che viene fatta per sostenere questi modelli parlando delle medie aritmetiche degli interventi senza considerare le contemporaneità senza considerare la necessità di un sistema di avere una sua resilienza per eventi inattesi abbiamo avuto poco tempo fa l'alluvione per esempio sono elementi concreti che vanno tenuti in considerazione oltre che già abbondantemente espressi da agenas nei suoi documenti e quindi su questo non possiamo dire regione emilia romagna è all'avanguardia perché non è all'avanguardia una regione che riprogramma un'attività in questo modo poi tra l'altro prendendo certe volte appunto quando non sanno più cosa dire dicono ma di là fanno così di là fanno così ovviamente di regioni di cui hanno detto peste e corna del loro sistema fino all'altro ieri noi non dobbiamo avere paura di dire queste cose perché sono sacrosante perché sono esattamente il sentito della gran parte degli operatori e spero che l'assessore questo lo senta e lo veda e ovviamente come snami noi continueremo a discutere queste tematiche perché impattano direttamente sulla vita dei cittadini e impattano direttamente anche sulla vita professionale degli operatori grazie e a presto